Il voto favorevole, anche se è bene comunque specificare che tutte le opere che sono state inserite nello scenario di piano, trasferite nello scenario tendenziale, è perché hanno trovato da parte dei momenti partecipativi nei municipi, insomma da parte della cittadinanza, una esigenza per cui noi, come ho già ribadito, andremo al Ministero per chiedere una cabina di regia per fare in modo che tutte le opere trovino immediatamente una fase procedurale di avvio tale da garantire, comunque negli stessi periodi e in stesso momento alla cittadinanza, le risposte che la cittadinanza, ripeto, ha chiesto da parecchi anni. Quindi voteremo sì, però è bene specificare che non è che andiamo a privilegiare un'opera piuttosto che un'altra, è semplicemente perché riteniamo che in ogni caso rispetto alla proposta contenuta in questo ordine del giorno vi siano dei quartieri, tra l'altro, che sono stati insediati da oltre 50 anni in quella zona che ovviamente meritano in ogni caso una risposta positiva da parte dell'Aula. Grazie.